Entrano nel vivo i controlli dei carabinieri nel quartiere Ponticelli di Napoli. Già dalle prime ore dell'alba i militari della compagnia poggioreale e quelli del reggimento Campania sono al lavoro per setacciare i rioni popolari più sensibili. Oltre 60 uomini in campo con decine di pattuglie e l'occhio elettronico di un velivolo del nucleo di colteristi di Ponte Cagnano. Una detenuta di 29 anni agli arresti domiciliari è stata denunciata per fulto di energia elettrica. La sua abitazione in via Montale era collegata direttamente alla rete nazionale senza che il contattore filtrasse i consumi. Alimentato dall'energia sottratta indebitamente anche un sistema di videocamere installate lungo l'intera scala condominiale. Una appuntava al portone principale, utile per monitorare l'arrivo delle forze dell'ordine. L'impianto è stato sequestrato. Nella stessa palazzina è denunciata una seconda persona per lo stesso reato. Anche in questo caso la corrente era sottratta illecitamente. Alle decine di perquisizioni effettuate, soprattutto nell'otto O, i militari hanno abbinato controllo degli esercizi commerciali del quartiere. In uno di questi, grazie alla collaborazione del NIL, sono stati trovati 5 lavoratori in nero su 12 impiegati. Le sanzioni applicate superano i 30.000 euro. In uno alimentare, i carabinieri della compagnia Poggio Reale, insieme a quelli del NAS, hanno riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie. 100 kg di alimenti sono stati sequestrati. Altri alimentari sono stati sanzionati per violazione della normativa HCCP. Non sono mancati controlli alla circolazione stradale, con decine di posti di controllo disseminati in tutta la periferia orientale. 45 le contravvenzioni notificate, 12 i veicoli sequestrati.